Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Esatto, l'hai detto tu. Siete partiti col sole, poi acqua, grandine, proprio quando statevate affrontando lo sterrato. Che difficoltà ci sono state? Facevo fatica molto sullo sterrato perché dovevo pedalare molto forte e mi slittava molte volte la ruota dietro. Dedica per questa prima vittoria stagionale? La dedico a tutto il team, al mio direttore sportivo e a mia nonna che è in ospedale e a tutta la mia famiglia. Grazie mille.